Salve a tutti, mi sono appena svegliato, come si vede, questo è il mio pigiama, volevo dedicare al popolo delle mie canzoni un clippino natalizio, augurando a tutti buone feste. Alla prossima Alla prossima Giusto per riscaldarci un po', poi prossimamente faremo altre melodie natalizie, vi aspetto alle mie serate, se vi fa piacere. Il prossimo evento, 20 dicembre, papilla caffè, cena spettacolo, 10 euro, tagliere di salumi e formaggi, frittorina all'italiano, primo piatto, calice di vino o birra, noce in uccello e castagno in fornato. Vi aspettiamo, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.